Venghino signori, venghino! E' arrivato Figueroa! Tolgo tonzille, potto le siepi, rado le barbe e si affaccino signori! E' arrivato l'unica, inimitabile, Faccato! E' arrivato l'unica, inimitabile, Faccato! Ma chi è che bussa a quest'ora del mattino? Deve essere il nonaio che mi aspetta per stendere il contratto matrimoniale! Devo condurre questo affare il prima possibile! Una volta che Rosina sarà mia moglie ci penserò io a tenere a vada questi sbabbatelli innamorati! E' arrivato l'unica! Grazie a tutti! Grazie a tutti!